Ma che vuoi che stai sempre seccato a me come una cozza? Che mai trovate? Come ore di fame. E che vuoi da me? Che? Vuoi mangiare? Tu hai sentito l'odore e hai capito che qua dentro ci sta il mangiare. E va bene, vieni qua, si dite. Ti faccio mangiare, però mi devi promettere di mantenere il segreto. No, non ti preoccupare. Io appena me lo domando, dici che è stato strazzullo. Non ti faccio mangiare più. No, no, fammi mangiare, fammi mangiare. Allora, però aspetta. Prima di mangiare, io ti proporrei di fare un giochino. Ti piace il giochino? Sì, come? Lo conosci il giochino del paradiso e dell'inverno? No. E te lo spiego io. Quello in gioco consiste che uno deve fare o il paradiso o l'inverno. Ma questo che cos'è? Un piatto. No, fai conto che questo piatto tondo tondo è come il mondo. E queste che cosa sono? Polpetto. No, fai conto che queste polpetto sono l'anima e i morti, tutti i morti. Tutti che ti è morto.